Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana sulla rete web e viene caricata la trasmissione. La trasmissione di oggi, vi ricordo intanto che io sono Claudio Simeoni, meccanico, aprendista Stragone e guardiamo nell'anticristo e la trasmissione di oggi riguarda un argomento che viene trattato, discusso, pensato parecchie volte. Cioè, perché adorare gli dèi delle antiche religioni e perché noi abbiamo tanto disprezzo per il Dio dei cristiani? Cioè, cosa ci fa prendere una posizione anziché un'altra? Cosa ci fa decidere per un modo di essere anziché un altro? Bene, oggi tratterò esattamente questo aspetto. Chiaramente è un aspetto che è già stato sviscerato in altre trasmissioni, cioè è già stato messo in chiaro il punto di vista del paganesimo e della stragonaria rispetto sia al Dio dei cristiani sia agli antichi dèi e perché gli antichi dèi avevano una sostanza diversa, un modo di essere diverso dal Dio dei cristiani. Si tratta chiaramente di qualificare, di quantificare, di dare la qualità al Dio, di dare agli dèi la funzione in relazione agli uomini e gli uomini in relazione agli dèi quando gli uomini stanno vivendo nella vita quotidiana, stanno vivendo nella società, stanno vivendo le trasformazioni di un quotidiano continuo nel quale intervengono gli dèi o interviene il Dio dei cristiani. La qualità dell'intervento, la qualità della rappresentazione del modo di essere del Dio, la funzione degli dèi all'interno della vita, chiaramente qualifica il nostro modo di essere, il nostro modo di porsi davanti agli dèi e davanti alla vita stessa. Ed è questo, in realtà, questo aspetto che andiamo a sviluppare oggi, partendo da un libro dove c'è alcune idee che sono sorte, leggendo la discesa di Histar Alimferi, fatta da Jastov, tradotta da Jastov, è preso da un libro che parla sulla natura degli dèi, su cosa erano gli dèi. Un vecchio libro, diciamo così, degli anni 50, che sviluppava delle idee sugli dèi antichi e che ci ha portato a pensare le differenze che esistono fra la qualità degli antichi dèi e la qualità del Dio dei monoteisti, dei cristiani, degli ebrei, dei musulmani. Perché adoriamo? Naturalmente anche questo pezzo lo trovate in internet perché è stato messo nel sito www.stragonariapagana.it Perché adoriamo gli dèi? Adorare nel significato latino di colere, che significa coltivare, aver cura di, adornare, abitare, frequentare, praticare, onorare, osservare i riti. Perché gli dèi sono ciò che noi siamo. Se non fossero ciò che noi siamo, per quale motivo dovremmo onorarli? Gli dèi sono ciò che noi siamo in senso esteso, sia come oggetti che ci circondano, che noi definiamo, sia come azioni, fenomeni o rappresentazioni emotive del mondo in cui viviamo. Tutto questo, ricordo, per il pagano politista ha una coscienza, ha una determinazione, ha una volontà a modi di essere. Gli dèi costituiscono l'oggettività in cui noi viviamo e la sostanza della nostra vita. Quando ci sono casi o greggi che non producono o sposi e bambini che muoiono, o situazioni catastrofiche come quelle che troviamo oggi in Iraq, in Africa, in America Latina o in Asia, o in Europa stessa, ci sono condizioni distruttive per la vita, condizioni che devono essere cambiate. Così ci sono dèi che soffrono, per carenza di sviluppo, che devono cambiare la situazione oggettiva in cui quegli stessi dèi si sviluppano. Dèi che si sviluppano felicemente quando le case e le greggi si sviluppano felicemente, quando sposi e i bambini vivono nella felicità, quando le persone vanno alla ricerca della felicità possono cercare la felicità senza essere bloccate, offese, manipolate, distrutte, sottomesse. Il pianto degli dèi, come in queste antiche storie che andremo a riprodurre più avanti, è per le piante che non nascono, è per una situazione di sofferenza della natura. Degli dèi che costruiscono la natura, i suoi equilibri, le sue condizioni tese all'espansione. Perché dunque combattono gli dèi? Per assicurarsi le condizioni per poter espandersi, divenire e mutare nell'infinito dei mutamenti. È il mutare, le necessità del mutamento, le necessità dell'espansione, le necessità che la ricerca della felicità di espansione costringe gli dèi a mettere in atto delle azioni nell'oggettività. In un'oggettività di persone, mutamento, immutamento e trasformazione perenne. È in quest'ottica che dobbiamo guardare agli dèi, delle antiche religioni, agli dèi della vita. Gli dèi della vita che sono la vita stessa di cui noi siamo parte. Siamo parte come divenuti, germinati dalle trasformazioni nel passato e siamo attori che agiscono favorendo le trasformazioni che pongono le basi per un futuro. Proviamo a leggere alcuni passi degli antichi poemi sumerici, come ci vengono tramandati e passati. I momenti culminanti del ciclo sono le festività del matrimonio divino, cioè lo sposalizio annuale per la morte del Diotta Muzzo, che ha un'importanza anche maggiore nella vita religiosa della popolazione. Ogni anno, quando il figlio divino scende nel mondo sotterraneo, tutta la vita della natura cessa e la gran madre resta vedova. Igna e Anna, ovunque in alto e in basso, si piange, si lamenta nella casa del Signore. Il pianto è per le piante, il primo lamento è perché esse non nascono, per le case e per le greggi che non producono, per gli sposi che muoiono, per i bambini che muoiono. Le genti della testa bruna non creano, il pianto è per il gran fiume che non porta più acque, per i campi dell'uomo che non danno più grano, per le piscine dove i pesci da sur non si riproducono, per il calneto che è lo stelo caduto più non si sviluppa, per la foresta che i tamerici non crescono, per le colline dove gli alberi masgam non si alzano, per l'orto che rifornisce la casa dove non si producono miele e vino, per i prati perché c'è stata l'abbondanza dell'orto e delle piante silù, per il palazzo in cui non c'è più la vita dai secoli nei secoli. E poi continua questo poema sumerico. Non vive più il signore, pastore delle greggi, il marito della regina nei cieli non vive più, il padrone degli stalli del bestiame non vive più, quando egli dorme, dormono le pecore e gli agnelli, quando egli dorme, dormono le capre e i capretti. La dea, e Anne in questo caso, peregrinerà per il paese piangendo per la sua perdita, e finirà per discendere agli inferi in cerca di lui. Al paese senza ritorno, la figlia di Sim, Istar, diresse il suo pensiero, la casa buia, la dimora, incalla, la casa ad onde chi entra non torna, la via che non ha sentiero per tornare indietro, la casa in cui chi entra resta priva di luce, dove ha un polvere per nutrimento e argilla per cibo, non vedono la luce e dimora del buio, unica copertura come per gli uccelli e le penne, la polvere si è posata sulla porta e sul chiavistello. Essa, dunque Istar, muove a pietà il dio del mondo sotterraneo e sveglia Tammuz dal sonno della morte. Con il ritorno di Tammuz la natura risuscita. E leggiamo sempre da questo poema sumerico. In Inni grida alle sue donne sacre, nel cielo c'è luce, sulla terra c'è luce, nel senno della madre essagli da riposo, in Erec poggiano le mule di mattoni, su Erec gli getta un occhio fedele, turgi di maturi fichi, nelle pianure prosperano gli alberi, il valoroso sceso nel suo battello a correndo dall'Ade, il santo marito della regina dei cieli scese del battello a correndo dall'Ade. Ove erba non c'era, ora si mangia erba. Ove acqua non c'era, ora si beve acqua. Dove il bestiame non aveva ripari, ora si costruiscono i ripari. E il tutto è tratto da Christophe Dawson, l'età degli dei, editore longanesi, 1950. Deportati a Babilonia, gli ebrei possono, per la prima volta nella loro storia, andare a scuola e apprendere i rudimenti della cultura babilonese. Così, gli ebrei imparano gli dèi, conoscono cos'è il divino della vita, conoscono cosa serve il divino e, dai strani al divino babilonese, maturano l'idea di inventarsi un Dio creatore e padrone del mondo, è al meglio rispetto agli altri, è il più figo rispetto agli altri, un Dio senza doveri, né obblighi, né funzioni, esattamente come loro si immaginano, padroni degli uomini e in diritto di sterminarli. Non comprendono, gli ebrei, il senso del mito, né la magia del divenire e della trasformazione del presente mediante atti eroici. Non comprendono il di vivere in relazione col mondo e nel mondo. Essi vogliono pensarsi fuori dal mondo, senza relazioni col mondo, senza obblighi nei confronti del mondo, senza doveri né diritti nei confronti del mondo in cui vivono. Gli ebrei elaborano il concetto di estraneità del mondo che li colloca fuori dall'insieme sociale e umano. Dimenticano Baal, fondamento della loro cultura, ed elaborano la patologia psichiatrica da onnipotenza di desiderio e di domino del mondo. Il delirio di onnipotenza viene elaborato dagli ebrei e razionalizzato all'interno del Pentateuco. Il Pentateuco, a sua volta, giustifica la riproduzione continua e sistematica del delirio di onnipotenza che viene imposta ai bambini. E questo ci leggiamo dal Deuteronomio 6.4.13 come gli ebrei impongono ai loro figli, alla loro generazione, alla loro cultura l'idea del Dio padrone e del Dio ossessivo, del Dio patologico, della patologia psichiatrica, da onnipotenza, e come la giustificano, e come se la raccontano. Dice il Deuteronomio 6.4.13 Ascolta, Israele, il Dio tuo padrone, il Dio tuo, è l'unico Dio. Amerai dunque il tuo Dio padrone, il Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. E questi comandamenti che oggi ti dono rimangano ben impressi nel tuo cuore. Insegnali ai tuoi figli, parlane loro e quando te ne stai in casa tua, e quando cammini per via, e quando ti corichi, e quando ti alzi, legali come segnale alla tua mano e ti siano come frontali fra i tuoi occhi, scrivili sugli stipiti della tua casa e sopra le tue porte. E quando il Dio padrone, il Dio tuo, ti avrà introdotto nel paese che promise con giuramento ai tuoi padri, ad Abramo, ad Isacco e Giacobbe, di dare a te, quando avrai preso possesso delle città grandi e belle, che tu non hai edificato, delle case ricolme d'ogni bene che tu non hai riempito, dei pozzi in piena efficienza che tu non hai scavato, delle vigne e degli oliveti che tu non hai piantato, quando finalmente avrai mangiato e sarai sazio, guardati bene dal dimenticare il tuo Dio padrone che ti ha tratto dall'Egitto e dal paese della schiavitù. Temi il tuo Dio padrone, il Dio tuo, servi a lui solo e nel suo nome pronunzierai i tuoi giuramenti. Questa è l'essenza della manipolazione mentale sia degli ebrei che dei cristiani al fine di imporre la patologia del Dio padrone. Deuteronomio 6.4.13 Manca dunque la funzione. Manca perché adorare questo Dio? Cioè, adori questo Dio perché questo Dio padrone ti regala, ti dà cose che tu non hai edificato, ruba agli altri e ti fa diventare un padrone a tua volta. L'odiato Tamuz Tammuz dagli ebrei scese nel suo battello accorrendo all'Ade. Il santo marito della regina dei cieli scese nel battello accorrendo all'Ade. Dove erba non c'era ora si mangia erba. Dove acqua non c'era ora si beve acqua. Dove il bestiame non aveva ripari ora si costruiscono ripari. Dunque, l'odiato Tammuz dagli ebrei è attento al benessa degli uomini in quanto uomini. Gli dèi dei sumeri vivono la vita, la curano, sono responsabili. Dice il poema Sumero Non vive più il Signore pastore dei greggi Il marito della regina dei cieli non vive più Il padrone degli stagli del bestiame non vive più Quando egli dorme dormono le pecole e gli agnelli Quando egli dorme dormono le capre e i capretti Dunque, perché combattono gli dèi? In Eanna ovunque, in alto e in basso si piange si lamenta nella casa del Signore Il pianto è per le piante il primo lamento perché essi non crescono per le case e per le greggi che non producono per gli sposi che muovono e i bambini che muoiono le genti della testa bruna non creano Il pianto è per il gran fiume che non porta più acqua per i campi dell'uomo che non danno più grano per le piscine o i pezzi da sur non si riproducono per il ganneto che lo stelo caduto più non si sviluppa per la foresta che i tamerici non crescono per le colline ove gli alberi masgam non si alzano per l'orto che rifornisce la casa dove non si producono miele e vino per i prati perché c'è stata l'abbondanza dell'orto e delle piante silù per il palazzo in cui non c'è più la vita dei secoli dei secoli per questo piangono gli dèi per questo gli dèi combattono gli dèi dunque combattono per la vita il combattere degli dèi altro non è che la costruzione di un futuro la vita è il suo continuo sviluppo è nei desideri degli dèi babilonesi la vita che circonda gli esseri umani è fatta da dèi che parlano agli dèi e gli dèi rispondono risponde Anna risponde al richiamo della vita non distrugge case per dargli agli uomini trasformati in bestiame ma alimenta e nutre la vita quando la vita è l'oggetto della sua attenzione gli dèi delle antiche religioni non erano padroni assoluti e immobili degli esseri umani e tantomeno della vita non si pensavano né potenti e padroni gli dèi delle antiche religioni erano portatori di libertà perché essi vivevano all'interno delle trasformazioni dei mutamenti necessitavano di libertà per divenire e trasformarsi a loro volta e Anna non condanna gli uomini gli dèi alimentano le tensioni verso il futuro degli esseri umani gli dèi si manifestano mediante la libido le relazioni sessuali che rispondono ai desideri degli esseri della natura non sono i padroni non ordino di macellare e di massacrare chi non si mette in ginocchio davanti a loro ma soprattutto è la vita il femminile che lo genera e la libido che si manifesta mediante il desiderio espressione degli dèi ed è il Dio che cresce dentro di ogni essere figlio della natura allora qual è la funzione degli dèi se non quella di alimentare l'oggettività nella quale gli dèi delle specie della natura possono divenire a crescere da un lato gli dèi babilonesi come parte della natura che alimentano la natura per alimentare il loro eterno divenire e crescere e dall'altro l'onnipotenza distruttiva del Dio padrone degli ebrei e dei cristiani che opponendosi alla natura deve aggredire la sessualità delle persone per ridurla ad oggetti di possesso mediante le funzioni riproduttive al servizio del loro Dio negando la sessualità delle persone negando alle persone di gestire il loro corpo trasformando con questo le persone in schiave in schiave per volontà del Dio padrone che fa della schiavitù insegnamento divino e sacro e così nel cristianesimo abbiamo due figure centrali da un lato la vagina vergine di Maria la prostituta per eccellenza con lei che rinnega tutta se stessa in funzione della sua trasformazione in un oggetto posseduto al suo padrone e dall'altro lato l'esaltazione della sofferenza che negando il figlio e ammazzando il figlio santifica il sacrificio umano di Abramo negando gli esseri umani ogni futuro il futuro che ha nei figli il simbolo del divenire viene negato dal cristianesimo attraverso la sofferenza della croce Maria rappresenta l'ideale cristiano un corpo senza intelligenza passione e desideri la bestia asociale che può essere usata per il piacere di un padrone che non è capace di costruire relazioni con le persone e che per questo deve annullarne la personalità non deve apparire strana la conflittualità sociale provocata dal tentativo del cristianesimo di impossessarsi degli esseri umani sottomettendoli al suo dio padrone attraverso la privazione della loro libido e della libertà di veicolare la libido nella società una libertà negata dall'imposizione di una morale atroce e criminale che vede una continua ribellione da parte degli esseri umani in risposta alle voci del mondo della vita che chiamano gli esseri umani a prendere il loro posto nella natura allettati dall'avere case che non hanno costruito città che non hanno costruito campi che non hanno arato pozzi che non hanno scavato e nello stesso tempo terrorizzati dalle maledizioni di un dio padrone che si nutre della libido repressa dei cristiani ebrei e cristiani sono pronti a macellare chiunque mette in discussione diritti che non hanno e a rivendicare impunità per delitti in disprezzo del genere umano e della vita tutta né il fungo sacro della croce di John Allegro ci racconta il suo punto di vista sulla nascita degli antichi dei e vale la pena di leggerselo questo John Allegro perché nonostante tutto John Allegro apre una pagina importante per quanto riguarda le riflessioni sugli dei le funzioni degli dei John Allegro vi ricordo è uno studioso di sumerico è uno studioso di lingua sumerica è un e analizza e compara e fa comparazione delle varie lingue fra il sumero fra l'accadico fra il caldeo fra l'antica lingua ebraica fra l'antica lingua greca e attraverso le comparazioni linguistiche individua tutta una serie di condizioni per le quali gli dei nascono naturalmente da queste sue deduzioni da questi suoi studi lui ricava sia dal suo punto di vista una visione sugli dei e una visione delle ragioni per cui gli dei vengono in essere gli dei esistono naturalmente questo è il suo punto di vista se vogliamo azzardare un'ipotesi illuminata cerca l'idea dell'uomo primitivo su Dio e l'universo questo dovrebbe basarsi sulla ragionevole supposizione che tali idee fossero semplici e direttamente legate al mondo della sua esperienza egli poteva aver dato al Dio diversi epiteti per descrivere le sue varie funzioni e manifestazioni ma non c'è ragione di credere che dietro a quei nomi non si trascondesse un'unica onnipotente deità un supremo creatore datore di vita l'esame etimologico oggi possibile dei principali nomi di dei avvalora questo punto di vista orientandosi verso un tema comune di fecondità così i principali dei dei greci e degli ebrei Zeus e Geova derivano entrambi il nome dal significato sumerico succo di fecondità spermatozoi seme di vita la frase è composta da due sillabe ya ya in dialetto za cioè succo alla lettera acqua forte e u si tratta forse del più potente fenomeno dell'intera religione del vicino oriente nei testi si trova rappresentato da una quantità di segni cuneiformi diversi ma alla radice di tutti c'è l'idea della fertilità dunque una u significa copulare o montare o creare un'altra diluvio come fonte dello sperma divino un'altra vegetazione come frutto divino mentre un'altra u è il nome del dio tempestoso medesimo perciò a lungi da suggerirci una molteplicità di dei la nozione di conflitti teologici le nostre più antiche testimonianze ci riportano ad un'unica idea perfino ad un'unica lettera la U dietro il giudeismo e al cristianesimo in pratica dietro a tutte le religioni della fertilità del vicino oriente e i loro più sofisticati sviluppi c'è questo singolare fenomeno in parole povere il ragionamento dei primi teologi sembra essere stato questo poiché la pioggia fa crescere le messi deve contenere in sé lo sperma della vita nell'essere umano questo è rappresentato dagli spermatozoi emessi dal pene nell'orgasmo ne consegue che la pioggia altro non è che il seme divino cioè il creatore onnipotente Dio il più formidabile schizzo di questo seme è accompagnato dal tuono e dall'urlo del vento questa è la voce di Dio in qualche angolo della volta celeste un colossale pene raggiunge un orgasmo che scuote i cieli le labbra della punta del pene il glande si aprono e il divino seme è lasciato fuori e trasportato dal vento sulla terra come la saliva può essere vista mescolarsi al fiato durante un eloquio accalorato così il discorso del pene divino è accompagnato da una poderosa raffica di vento il santo il creativo spirito che reca in sé la saliva del seme questa saliva è il discorso visibile di Dio è il suo figlio la parola o per dirla con il nuovo testamento il verbo che era presso Dio e il verbo era Dio egli era il principio presso Dio tutto per lui è stato fatto senza di lui non è stato fatto nulla di ciò che esiste in lui era la vita Giovanni 1 1 4 e secondo i salmisti per la parola del Signore furono stabiliti i cieli e col soffio di sua bocca tutte le loro schiere salmi 32 6 oppure mandi invece il tuo spirito e sono creati e rinovellati la faccia della terra salmi 103 30 l'idea della parola creativa di Dio doveva avere un'enorme importanza filosofica e religiosa e fu ed è tuttora oggetto di profonda discussione metafisica ma all'origine non si trattava di una nozione astratta voi potevate vedere la parola di Dio sentire la pioggia sulla faccia vederla penetrare nei solchi della madre terra le labbra del ventre della creazione dentro vi arde un fuoco eterno che di tanto in tanto manifesta la propria presenza drammaticamente arrutando da un cratere di un vulcano portando ad ebollizione l'acqua delle sorgenti dove la crosta terrestre è più sottile era questo calore uterino che rendeva possibile la generazione e che più tardi teologi identificarono come luogo e il significato del castigo eterno dunque secondo il punto di vista di Allegro gli dèi esistono questo è John Allegro vi ricordo il fungo sacro e la croce è un libro che ormai non trovate quasi più perché è stato praticamente distrutto dai cristiani però è rintracciabile ancora in qualche biblioteca vi ricordo ancora John Allegro il fungo sacro e la croce secondo il punto di vista di Allegro gli dèi esistono perché nell'uomo ci sono le pulsioni del piacere questa ricerca del desiderio che spinse le specie fuori dal brodo primordiale e che le costrinse ad usare la loro volontà nei vari processi evolutivi è la ricerca fondamentale e una delle pulsioni fondamentali dell'uomo ricerca del piacere una ricerca che la moderna psicologia è individuato come delle forze primordiali che spingono al divenire della vita lontano dalla sofferenza verso la soluzione dei problemi che le relazioni fra il soggetto e il mondo costruiscono perché agisce il dio dei cristiani ha forse un qualche nemico da combattere per permettere all'umanità o alla natura di divenire e di trasformarsi quale azione può fare il dio dei cristiani per gli uomini lui che si vanta di averli creati a sua immagine e somiglianza cosa può portare agli uomini lui che è capace solo di chiedere obbedienza e sottomissione pena il terrore delle sue grandi gesta che nessuno ha mai visto ma qualche ebreo probabilmente drogato ammillantato il cristianesimo è verità in quella verità deve soffocare le persone deve soffocare la vita quella verità va imposta a tutti prescindendo dall'oggetto manifestato da quella verità non si limita il cristianesimo a condannare Galilei ma brucia milioni di persone chiamandole eretiche tutti con il costoro hanno il torto di pensare cose diverse da quella verità proclamata dal cristianesimo dal suo Gesù dal suo Dio gli eretici dimostrano la menzogna della verità del cristianesimo il cristianesimo non ha strumenti per giustificare il suo inganno la sua truffa che spacciando il suo Dio padrone come assoluto non toglie la discussione su quello assoluto il Dio dei cristiani detta la sua morale una morale inumana volta a negare tutte le forze psichiche che furono il fondamento del divenimento umano solo negando le forze psichiche della vita il cristianesimo allontana gli esseri umani dalla vita li allontana dagli dèi rintiudendoli nella patologia psichiatrica delirante perché onoriamo di dei perché sono la vita la vita che si dispiega all'interno nell'eterno corso dei mutamenti perché dispreziamo il Dio dei cristiani perché pretende di stuprare la vita pretende di esserne il padrone il padrone della vita millantando di esserne il creatore il Dio dei cristiani ha mentito hanno mentito i cristiani descrivendo il loro Dio è solo il prodotto della fantasia malata di morte quale frutto del delirio di ogni potenza di chi incapace di vivere nella società e nella natura pretende di essere fuori di questa giudice padrone che si crogiola nelle perversioni compiacendosi dei genocidi e per questo questa è la differenza fra gli antichi dèi e il Dio dei cristiani gli antichi dèi vivono un cammino di libertà vivono un cammino di espansione perché gli antichi dèi sono ciò che noi siamo sono la nostra costituzione e noi nelle nostre azioni nelle nostre emozioni nei nostri desideri nel nostro alibido non facciamo altro che esprimere quegli dèi e chiamare gli dèi del mondo gli stessi dèi del mondo ad agire verso di noi e a nutrire il nostro cammino ecco perché i pagani e i politeisti adorano gli dèi e sono legati agli antichi dèi e ai nuovi dèi che vengono riconosciuti nella società in cui viviamo bene per oggi questo è tutto vi ringrazio per l'ascolto io sono Claudio Simenoni meccanico apprendizia stragone guardiano anticristo e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia stragoneria e paganesimo ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti